Passerei al sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, abbiamo tenuto come una puntina da disegno il tema TAP, energie, guardavo voi perché è venuta da Ravenna ma parte da Lecce e peraltro so che avete, lei è anche il delegato in materia di energie e rifiuti per Anci quindi il tema della decarbonizzazione passa anche dalla sua visione d'insieme sui consumi italiani Sì, grazie, buongiorno Dobbiamo cominciare a usare termini un poco più espliciti quando parliamo di sfida climatica dobbiamo parlare di riscaldamento globale cioè far capire alle persone che ci misuriamo con il fatto che nelle città e nel mondo la temperatura sale nella mia città dal 1960 al 2020 la temperatura è aumentata di 3,1 grado che è superiore alla media delle città italiane che è di 2,2 questo però viene vissuto oggi come un grande privilegio perché possiamo andare a farci il bagno a mare il 23 di ottobre se non cominciamo ad accompagnare le nostre comunità la consapevolezza di questo enorme problema noi facciamo fatica cosa vorrei dirvi che ci sono alcune parole che si stanno affermando nel dibattito pubblico che dovremmo in qualche modo correggere noi stiamo parlando molto di diversificazione delle fonti energetiche e invece dobbiamo parlare di transizione cioè sostituire le fonti fossili con le fonti rinnovabili se vogliamo porci l'obiettivo del contenimento del riscaldamento globale e quello che sta avvenendo in Italia e non solo è che noi continuiamo ad aumentare la produzione di energie rinnovabili e questo è un nostro successo senza contestualmente ridurre significativamente la produzione da fonti fossili cioè aumentiamo l'energia pulita senza togliere l'energia sporca su questo dobbiamo riflettere io lo dico perché c'è un caso emblematico io vengo dalla Puglia la Puglia è da diversi anni la regione quasi leader per potenza installata di fotovoltaico ed eolico abbiamo dato un grande contributo al sistema paese cerchiamo di capire quali sono stati i ritorni in termini di benefici continuiamo ad avere la CO2 pro capite superiore alla media nazionale non abbiamo avuto benefici in termini di bollette energetiche sulle famiglie e sulle imprese non siamo riusciti a sviluppare nella nostra regione un sistema industriale di supporto sull'impiantistica eolica e fotovoltaica questo perché accade? perché ci siamo convinti che le politiche energetiche debbano essere regionalizzate e sarebbe utile invece che rientrassero dentro un grande strategia nazionale e perché continuiamo a fare errori tanto per essere chiari col decreto sulle aree idonee si sono stabiliti i target di produzione delle rinnovabili 83 giga per il sistema paese nel 2030 alla regione Puglia ne hanno segnati 8 giga adesso noi se compulsiamo il dato di Terna scopriamo che ci sono richieste per allaccio alla rete elettrica di fonti rinnovabili in Puglia di 83 giga c'è qualcosa che non funziona vogliamo parlarne? vogliamo assumere una direzione politica della gestione delle rinnovabili nel nostro paese? perché ha giustamente detto Ottobie senza un rapporto virtuoso fra pubblico e privato noi questa sfida la perdiamo ma il pubblico deve essere come dire più consapevole del proprio ruolo delle proprie responsabilità noi non abbiamo un piano di gestione dello spazio marittimo per cui non abbiamo deciso le regole che ci consentono di individuare le zone dove autorizzare gli impianti eolici onshore siamo in ritardo colpevole sulla individuazione delle aree idonee a terra per l'autorizzazione degli impianti eolici e fotovoltaici manca un rapporto sinergico in molte regioni fra regioni e comuni in questo quadro regolatorio è evidente che le scelte a normativa vigente la faccia o il privato o il Consiglio di Stato ed è evidente che in questa situazione noi perdiamo una grande opportunità grazie sindaco